La notte per gli eroi e siamo qui effettivamente io e Simone Pierotti come promesso a raccontare le magiche sorti della pallannuoto maschile italiana che debutta stanotte all'Olimpiadi con Troll Sudafrica, ne parleremo a lungo ma nel frattempo naturalmente copriremo anche gli altri italiani che stanno gareggiando, c'è il fioretto femminile, la spada maschile nella scherma, c'è la nazionale italiana di pallavolo femminile che sta giocando, ma insomma vedremo un po' cosa succede, in frattempo mi sono anche guardato un po' di surf, un po' di skate che debutta quest'anno per la prima volta in assoluto all'Olimpiadi, grande street, veramente una serie di evoluzioni bellissime che consiglio a tutti di rivedere, ma insomma Simo eccoci qua, buonasera, buonanotte, buonasera, buon giorno, quello che è, insomma cosa dobbiamo aspettarci da questa partita, da questa nazionale, insomma, questo torneo olimpico? Ma allora dovrebbe essere insomma un esordio assolutamente sul velluto e tra l'altro la curiosità è che è la prima volta che affrontiamo il Sudafrica ai giochi olimpici, perché l'avevamo affrontato in precedenza solo ai mondiali, mi sono segnato tutto eh Dario? Grandissimo. L'abbiamo affrontati eh ai mondiali due volte nel duemilacinque a Monreal vincendo quindici a quattro e nel duemilandici a Shanghai quando abbiamo vinto l'oro mondiale addirittura finì dici a sette a uno. E poi abbiamo affrontati anche nel duemilanove la World League di Podgorica vincendo quattordici a tre. Quindi è la prima volta che affrontiamo il Sudafrica ai giochi olimpici e oltretutto il Sudafrica ritorna nella pallannuoto maschile dopo sessantuno anni di assenza perché l'ultima volta risale a Roma sessanta, una olimpiade che ci ricordiamo bene perché il settebello vinse il suo secondo oro olimpico. Non vinciamo l'oro olimpico dal 1992 Simo se non vado. Esatto sì, l'ultima volta è stata nel 92 con con Ratko Rudic come commissario tecnico nel maschile perché invece è sempre bene ricordare che nel 2004 vincemo col sette rose tra l'altro l'Italia a tutt'oggi rimane l'unico paese ad aver vinto l'oro olimpico sia nel torneo maschile che in quello femminile a pallannuoto che è lo sport di squadra presente da più tempo nel programma olimpico perché venne inserito nel 1900 a Parigi e da lì in poi non è stato più tolto. Fatto bene a ricordarla questa cosa perché non la ricordiamo mai. nel maschile poi abbiamo vinto qualche altra medaglia giusto per fare un recap per i nostri fattori. Sì abbiamo vinto, ora insomma vado un po' così a braccio, però mi ricordo abbiamo vinto l'argento nel 1976 e nel 2012 a Londra. Quindi nel 2012. Sì poi abbiamo vinto il bronzo nel 2016 e nel 1996 e poi mi pare di ricordare, sì non ci sono state altre medaglie, ah sì vabbè l'oro nel 48. No sì sì no mi intendevo dopo il 92. Sì 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 no dopo il 92 abbiamo vinto il bronzo nel 96 nel 2016 e l'argento nel 2012. Beh insomma comunque sia. Sì siamo un paese di grandi tradizioni. Si parte si parte. Sì. Eccolo qua. Tra l'altro ecco è curioso anche andare a dare lettura delle formazioni perché c'è una novità quest'anno nel regolamento della delle olimpiadi perché sono 13 giocatori che sono stati portati dai commissari tecnici però con la particolarità che uno viene utilizzato come riserva a rotazione. Per cui quindi diciamo che oggi gli allenatori possono schierare fino a un massimo di 12 giocatori quindi 12 vanno in panchina e uno va in tribuna e la scelta del CT Alessandro Campagna è stata quella di mandare in tribuna Pietro Figlioli e di schierare il secondo portiere Nicosia perché eh se poi un giocatore diciamo una riserva non non viene mai portato in panchina poi se si va a medaglie non prende la medaglia e quindi ha fatto una scelta tanto c'è l'Italia che sta usufruendo la società numerica in attacco però non riesce a concretizzare questa azione. Vabbè andiamo a leggere velocemente le due formazioni partendo dal Sud Africa che è in calottina bianca abbiamo il portiere Madi che è anche il capitano eh Card Rezelman Badenhorst Laurensson Stone Evezard Rodda Margaro Maiman Neil e Stewart il commissario tecnico è Paul Martin tra invece l'Italia eh Schiera del Lungo di Fulvio Luongo Nicolas Presciutti Velotto Renzuto Iodice Eceniche Figari Bodegas Aicardi Dolce e come detto Nicosia che è il secondo portiere tanto eh superità numerica invece per il Sud Africa in questo momento quindi siamo già pari a livello di espulsioni sei leggermente indietro a me eh ok ah rifrescia rifrescia il perché anche perché l'Italia ha appena segnato 1 a 0 ah ok perfetto allora eh sì che sto guardando dal dal computer sì anch'io anch'io guardo un attimo la rifrescia ok ah ecco appunto il primo gol dell'Italia eh sì lo segna Velotto Alessandro Velotto il giocatore della Prorecco e quindi insomma l'Italia che che segna il suo primo gol di questo. Salutiamo Luca Sisto che è a lavoro. Ciao Luca. Anche lui è un eroe che ci seguirà per tutta la diretta e anche Iocco Zero Due che esulta al gol di Velotto. Ciao Iocco. Eh sì eh sì. 1 a 0 vabbè. Assolutamente. Dicevamo questa partita ci dovrebbe servire per riscaldarci in vista poi dopo delle successive. Chi ci abbiamo nel girone Simo? Noi abbiamo allora così almeno eh facciamo tutto completo diciamo anche il programma della prima giornata anche perché poi eh siamo noi gli apripista perché Italia Sud Africa apre l'intero torneo eh successivamente ci sarà Ungheria Grecia e Stati Uniti Giappone che quindi completano il programma del del gruppo A quindi il nostro eh mentre invece eh chiudono la prima giornata Australia Montenegro Serbia Spagna e Croazia Kazakistan nel gruppo B quindi eh questi sono i due gironi e quanti ne passano? Ne passano allora dopo ci sono quarti semifinale e finale eh perciò ne passano quattro per girone e presumibilmente nel nel gruppo B eh accederanno ai quarti Serbia, Croazia, Montenegro e Spagna con l'Australia che forse può giocarsi qualche carta ehm però insomma ecco saranno presumibilmente queste e sarà curioso vedere in quale ordine finiranno perché poi mi ricordo che anche eh a Rio 2016 ci fu una tutta una serie di risultati strani nell'ultima giornata eh era una gara per evitare la Serbia che era la grande favorita che infatti poi andò a vincere l'oro con grande merito. Come siamo messi in questa edizione? Chi dobbiamo aspettarci? C'è una stragrande favorita o più o meno? Allora credo che le due grandi favorite in eh in questo momento siano eh la Serbia e l'Italia stessa che comunque è un gruppo molto competitivo eh tra l'altro Campania ha puntato sul gruppo che nel duemiladiciannove ha vinto i mondiali a Guangzhou in in Corea del Sud l'unica differenza è che non c'è di somma infortunato è stato chiamato Nicola Spreciuti ma per il resto il gruppo è lo stesso compresi anche i due portieri che tra l'altro c'è la possibilità per Stefano Tempesti di diventare il secondo palanotista a fare sei olimpiadi però ormai insomma da tempo anche per ragione di età è uscito dal gira nazionale ormai i portieri sono del lungo e Nicosia fino all'ultimo c'è stato magari fra Nicosia e De Michelis nella Roma nuoto un un ballottaggio però poi due a zero dell'Italia sì eccolo con Di Fulvio che è la nostra stella oggettivamente insomma uno dei giocatori più forti sì Francesco Di Fulvio uno dei giocatori più forti al mondo è un po' la nostra stella ma adesso comunque l'Italia come è andata quest'anno in Champions ha vinto la Prorecco che però in campionato ha dovuto abdicare era dal 2006 che vinceva e quest'anno il Brescia esatto il Brescia ha interrotto questa lunga egemonia ma insomma l'abbiamo parlato anche qualche sera fa nella tua diretta da Agile e Margin insomma che da quando era stata rilevata da Gabriele Volpi sono stati fatti grossi investimenti e chiaramente sono arrivati anche tantissimi risultati. La proprietà adesso è sempre Volpi? Sì sì è sempre Volpi e il presidente è Maurizio Felugo che è già stato insomma la leggenda della palla al nuoto azzurra campione del mondo vice campione olimpico per cui insomma comunque Volpi è rimasto ancora la guida della Prorecco. Bene tra l'altro nelle prossime settimane insomma in questi giorni cerchiamo di contattare Silipo Buoncarlo per vedere se ci viene se ci raggiunge in queste nostre maratone notturne a parlare di palla al nuoto o anche di giorno forse è più facile. Oddio comunque dovremmo chiamare al massimo insomma la mattina presto visto che. Tanti prossimi match quando quando saranno? Allora il prossimo è martedì 27 che giochiamo alle 8 e mezzo di mattina orario italiano ovviamente contro la Grecia. Quello perfetto direi. Poi giovedì 29 7 e mezzo di mattina contro gli Stati Uniti. Bene anche quello. Sabato 31 luglio 11 e 20 di mattina contro il Giappone padrone di casa e poi chiudiamo lunedì 2 agosto alle 3 di notte ahimè quindi domenica la notte fra la domenica e lunedì però insomma Italia Ungheria quindi sarà una parte. Grande match. Grande match. Da seguire sì assolutamente. Spieghiamolo un po' magari per i nostri spettatori un po' meno esperti l'Olimpiadi permette se intanto faccio un cappello introduttivo l'Olimpiadi ci permette di vedere sport che di solito non stanno sul mainstream e ci piace molto questa cosa ma l'Italia è una grande tradizione della pallanuoto ma invece le altre grandi scuole quali sono? Diciamo che bene o male l'Europa è un po' il continente dominante perché le altre grandi scuole sono sicuramente l'Ungheria che anzi è considerata un po' il Brasile della pallanuoto il paese che ha vinto più titoli olimpici europei insomma una nazionale con grandissima tradizione che tra l'altro insomma arriva sempre molto preparata ai giochi olimpici ma tra un'Olimpiade e l'altra cerca di favorire il ricambio generazionale prepara il terreno europee mondiali per l'appuntamento olimpico che ovviamente è quello su cui si punta maggiormente e poi c'è diciamo fra i paesi competitivi sicuramente l'area balcanica quindi Serbia, Proazia, Montenegro, Modega, esatto il compito della traversa ma come mai l'Ungheria Simo ha questa grande tradizione? insomma se ci sono dei motivi storici o non lo so insomma cioè alla fine qual è il motivo? ma mi pare di ricordare fra l'altro che la pallanuoto in Ungheria è stata introdotta da un ungherese che era andato a studiare in Serbia mi pare di aver detto così la storia e poi per loro iniziarono a sviluppare un loro gioco tant'è che anzi gli ungheresi negli anni 20-30 furono i primi a non far imbalzare diciamo quantomeno a non far cadere il pallone nell'acqua ma a passarsi di mano in mano rimanendo diciamo nell'aria ecco e non passandolo sull'acqua ah ok 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 quindi sono stati anche fra i primi a introdurre alcuni accorgimenti tattici insomma c'è Bella Raichi che è considerata uno dei più grandi allenatori di sempre un innovatore negli anni 30 e per lungo tempo c'è stata anche la scuola sovietica tant'è che dal 64 al 76 mi pare il commissario tecnico fu Anatoly Blumenthal che è stato diciamo il re della zona però poi diciamo che dopo la fine del il crollo del muro di Berlino insomma il crollo dell'Unione Sovietica la Russia poi non è mai stata in grado di rinverdire quei fasi che comunque l'Unione Sovietica vinse due medaglie d'oro olimpiche e poi vinse anche un mondiale quindi era una scuola con grandi tradizioni Nato a fine del primo tempo vediamo come funziona le spieghiamo anche proprio un po' di roba tecnica così quando poi ci seguiranno i nostri ospiti saranno più preparati insomma come funziona quanti tempi sono quanti giocatori sono schierati in campo assolutamente allora si gioca 7 contro 7 tant'è che appunto il soprannome dell'Italia è Settebello che nacque in occasione dei giochi di Londra del 48 dai giocatori dell'Araninantes Napoli ovviamente con riferimento al gioco delle carte si gioca 7 contro 7 sono 4 tempi da 9 minuti effettivi quindi è una differenza rispetto al calcio dove invece sono 90 minuti continuati dove quindi poi il tempo di gioco effettivo è minore invece qui sono tutti diciamo effettivi ci sono le espulsioni temporanee un giocatore dopo che si è beccato 3 espulsioni temporanee deve abbandonare l'incontro non viene però squalificato è semplicemente che non può più essere schierato ci sono c'è un limite di secondi per completare l'azione in superità numerica che è 20 secondi c'è invece un altro tempo che è 30 secondi per le azioni in attacco quindi un po' come nel basket diciamo tra l'altro scusami Simo ti interrompo un attimo tra poco dopo o non so se durante questa partita o poco dopo ci sarà il debutto anche dell'Ital Basket Italia Germania insomma a un certo punto tra l'altro a proposito di basket mi viene in mente appunto questo personaggio mi ricordo quando ero ragazzo insomma Cesare Rubini all of famer all of famer di entrambi di sport esatto è uno di quelli che ha vinto l'oro olimpico con il settebeno nel 48 e poi è stato anche un grandissimo giocatore allenatore di basket anzi fu il primo mi sembra vincere l'Eurolega con l'Olimpia Milano che era la famosa Olimpia Milano delle delle scarpette rosse le scarpette rosse perché all'epoca giocava davvero con queste scarpette esatto si si converse rosse esatto c'è anche una particolarità che tanto insomma prima o poi lo sapevo che si finiva sempre lì che che Rubini ha partecipato alla Coppa Carnivale di basket di Via Reggio negli anni 50 fantastico fantastico tanto è ripartita nel frattempo è ripreso si dicevo scusa prima mi sono scuso perché poi spesso è cambiato il minutaggio sono 8 minuti effettivi di gioco per tempo che sono comunque 4 e tra il secondo e il terzo tempo c'è il il cambio campo quindi nel terzo e quarto tempo l'Italia è 3-0 Palla che si è stampata tra la rete e il sostegno è rimasta ferma sassata di Mancino di Gonzalo e Ceniche che è uno dei nostri naturalizzati di dove da dove è argentino di Rosario quindi una città a cui noi amanti del calcio chiamiamo molto chiamiamo molto eh sì 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 l'altro è Pietro Figlioli eh australiano eh in realtà è nato Rio de Janeiro eh poi ha giocato due olimpiadi con la nazionale australiana 2004-2008 e poi dal 2009 invece è con la nazionale italiana e quindi è ricordiamo che ha seguito l'olimpiade eh ricordiamo appunto che a differenza del calcio nella Palla Norte si può cambiare nazionale anche se hai già giocato a esatto e poi c'è anche con la semiola Michael Bodegas francese che ha scelto anche lui la eh la nazionalità italiana insomma ce ne sono stati tantissimi chiamiamoli oriundi eh nel settebello negli ultimi anni proprio perché sono cambiate le regole intanto 0 esatto bel tiro all'incrocio dei pari esatto è nato al segno Niccolò Figari bel gol davvero sul primo portiere 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 sudafricano rivedibile sì sì ma infatti insomma questo non è assolutamente un test probante però diciamo che in questi casi le grandi squadre non prendono sotto gamba l'avversario e quindi sarà sicuramente importante vedere il livello di attenzione del settebello ci potrà ci potrà essere questioni anche no sulla differenza reti no e quindi insomma è bene tenere l'attenzione alta per un arrivo magari tutti insieme che poi si rischia di fare un incrocio subito magari passato il girone subito difficilissimo tra l'altro sono andato a riguardarmi un po' di statistiche su diciamo le prime partite dell'Italia agli olimpiadi esatto e al momento insomma l'esordio con il maggior numero di gol è stato la maggior diciamo differenza rete è stato a Helsinki nel 52 con un comodo 16 a 0 ai danni dell'India così grande India poverini esatto però la cosa più divertente è raccontare il debutto assoluto d'Italia della nuota ai giochi olimpici a Anversa nel 1920 una partita contro la Spagna che era sull'1-1 poi i giocatori azzurri si ritirarono perché insomma l'acqua era particolarmente fredda tanto 5 a 0 bel gol bel palonettino palonettino di Di Fulvio che insomma non a caso ti ripeto è un po' la nostra stella assolutamente è stato anche premiato due o tre stagioni fa col premio di miglior giocatore dell'anno addirittura qui ha segnato di sinistro lui che è un destro naturale insomma per cui proprio Accademia Accademia pura direi si insomma in questo secondo tempo abbiamo già segnato più gol di quanti ne abbiamo segnato nel primo insomma neanche quattro minuti di gioco per cui direi che stiamo andando alla grande forse loro cominciano già un po' a calare noi probabilmente maciniamo e loro calano un po' che dici sì poi insomma immagino anche l'emozione di questi ragazzi tra l'altro lo avevamo accennato nella diretta su Twitch di ieri della cerimonia inaugurale che i giocatori del Sudafrica sia nazionale maschile che femminile hanno dovuto partecipare alle spese intanto 6 a 0 stiamo volando di Fulvio quindi tripletta il giocatore pescarese da Prorecco sto dicendo che i giocatori negli atleti della nazionale sudafricana sia maschile che femminile hanno dovuto partecipare alle spese per la trasferta olimpica si parla più o meno della stima di quasi 7000 dollari a testa che insomma non è poco non è pochissimo tenendo conto che appunto il Sudafrica non è un paese non è nell'elite la pallannuoto mondiale c'è comunque però una storia davvero particolare perché nel frattempo scusami Simo Italia nella pallavola avanti 2-0 e decisamente avanti anche nel terzo set insomma ottimo le ragazze guidate da Favre direi che per l'ora negli sport di squadra sono partiti bene il volo maschile ci ha fatto un po' soffrire un po' tribolare contropiede contropiedone Italia con Renzuto Iodice che non ha pietà nessuna pietà autostrada spianata poverà ci ha preso più gol in questo secondo tempo mi ricorda i portieri delle mie squadre quando giocavamo contro la Rainantes Florenza nei giovanili della futura Prado si perdeva sempre un 20 gol di scarto minimo era sempre così però insomma sono stati comunque bei momenti dicevo che c'è una particolarità perché c'è il giocatore più anziano della nazionale sudafricana che è Don Stewart che in qualche modo chiude un cerchio perché il padre Brian si era qualificato nelle gare di nuoto per i giochi di Tokyo del 64 quindi sempre per Tokyo però non poteva partecipare perché come ben saprai il Sudafrica dal 64 al 92 non ha partecipato ai giochi olimpici è stato posto in isolamento per via del regime dell'apartheid e quindi in qualche modo il cerchio si chiude perché insomma finalmente qualcuno della famiglia Stewart riesce ad andare alle olimpiadi ti pensa a 41 anni di buttare ai giochi olimpici contro i campioni del mondo in carica ha detto che poi ovviamente si ritirerà finiti questi giochi però non c'è proprio un premio alla carriera in qualche modo beh è vero ci sta bellissimo è bellissimo il fatto che possa andare a fare quelle olimpiadi che venne negata al padre intanto il Sudafrica è in attacco che beneficerà di una tra l'altro ho visto c'è stata un'espulsione definitiva per il Sudafrica Laurensson se non sbaglio si esatto Cameron Laurensson che è il difensore traversa per il Sudafrica per l'altro beh devo dire ecco che l'Italia è come un'altra grande stella ce l'ha fra i pali perché del lungo insomma un po' per semplificare per i non esperti è un po' il nostro Donnarumma cioè comunque un portiere fra i migliori al mondo diciamo che da quel punto di vista abbiamo sempre avuto una grande tradizione se non sbaglio si si diceva anche ieri insomma abbiamo avuto Tempesti Attolico prima ancora Alberani Panerai Attolico me lo ricordo come un portiere veramente eccezionale si 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 assolutamente assolutamente tanto addirittura 8 a 0 rovescino questo si chiama Beduina o rovescino come gesto tecnico e venne perfezionato da Ermene Gildo Arena che è stato uno dei più grandi giocatori di pallanuoto oro olimpico nel 48 a Londra ed è quello che ha inventato l'arena esatto è lui si si è lui lui l'arena per gli spettatori insomma la linea sportiva l'abbigliamento sportivo che vediamo anche soprattutto nuoto per l'appunto nella pallanuoto la pallanuoto perché è lo sponsor tecnico del Sudafrica vedo in questo momento certo infatti mi è venuto a mente vedendo anche anche l'arena eh si comunque 8 a 0 secondo tempo insomma si si no ma l'ho detto fin da subito che questo era un esordio sul velluto sicuramente quella Grecia sarà già più difficile come incontro anche se insomma la Grecia non è più quella generazione che inizia anni 2000 arrivò a quarta ai giochi di Atene e l'anno successivo vinse il bronzo ai mondiali nel tempo per fortuna scusami Simo per fortuna rispetto a quello che è successo adesso ieri ieri notte con il l'arco misto che è stato eliminato subito le ragazze passano e gara in programma alle 7 di stamani insomma fra 4 ore e quarti di finale quindi insomma sono riusciti a passare nello stesso tempo la Enrico è agli ottavi la Enrico riesce a riandare agli ottavi batte facilmente 15 a 2 l'egiziana contro cui combatteva vediamo se c'è qualche altro anche le azzurre nel tiro a volo nello skit ricordiamoci un'altra delle nostre miniere come dicevamo anche ieri e insomma anche nelle precedenti live che abbiamo fatto in questi giorni una delle nostre miniere è proprio il tiro quindi le ragazze passano per fortuna insomma sia la Biacosi la Biacosi passa quindi alla grande dai e ha fatto tra l'altro la Biacosi passa anche la Canero con 22 su 25 e la Biacosi ricordiamo l'ha fatto 25 su 25 giusto per dire che non è proprio un fenomeno insomma ecco esatto quindi anche quella lì quella è una delle gare ne parlavamo con Ivan ieri che salutiamo sarà lì addormentato sul divano eh sì se sarà un caso sul divano è una delle gare in cui potremmo andare a medaglia al tiro a volo quindi sì ma insomma devo dire che siamo partiti alla grande ma parere benissimo un argento e un oro tra l'altro dicevamo anche ieri con Ivan per l'appunto che non è che proprio ci aspettavamo no di vincere subito due medaglie il primo giorno tanto qui 9 a 0 intanto altro gol ma è giusto essere implacabile secondo me sì 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 la campagna vada splendido fatto gol a Nicola Spresciutti che appunto come dicevo prima è la novità rispetto al gruppo che ha vinto l'oro ai mondiali di Guangzhou e per cui insomma ma new entry che si è fatta subito valere in questa prima partita con sì ricordiamo per l'appunto come dicevi Simo data bene ieri due medaglie appunto dicevi l'argento e ora l'argento strepitoso comunque di Samere sì sì anche lui ha detto che ci avrebbe messo la firma insomma per cui non è rimonta semifinale incredibile da 12 a 7 e poi in finale naturalmente trova uno dei mostri sacri della scherma che era lì per scrivere la storia insomma insomma io ho visto la finale sul mare perché insomma ero al mare qui a Vereggio e però con l'applicazione di Discovery Plus spero che si possa dire è stato gol del Sudafrica fuscilato all'angolino sì 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 quindi concediamo un gol al numero 3 che è Rezema ma De Rez insomma è uno dei giocatori di punta della squadra africana insieme al numero 4 Badenhorst che è il centro boa quindi si tratta comunque di giocatori di maggior talento del Sudafrica e poi naturalmente c'è stato l'oro di Vito Dall'Acqua Dall'Aquila insomma sì esatto pazzesco un nebo di 20 anni Tequondo 58 kg è stato anche lui rimonta perché all'inizio il tunisino il finale fastidioso sì fastidioso perché era una quindicina di centimetri più alto del nostro quindi con le gambe lunghe dava fastidio ha colto l'occasione perché ricordiamo che il tunisino ha battuto in semifinale Zhang che era veramente lo spauracchio il numero 1 assoluto e per fortuna il nostro Dall'Aquila ha colto l'occasione del volo ha 20 anni tra l'altro c'era questa cosa bellissima che ci sono due campioni olimpici eccolo 10 e 1 intanto ha fatto ancora anche Riccardi due campioni olimpici a Molfetta no scusami a Mesagni a Mesagni a Molfetta esatto di Mesagni nello stesso sport ora si diceva con Ivan di andare a controllare se il rapporto a popolazione specialità olimpica e medaglie olimpiche vinte sia il migliore nel mondo perché effettivamente c'ha 12.000 abitanti Mesagni esatto appunto non è una metropoli dunque Icardi gol di Icardi sì esatto che non è Mauro no esatto anche perché c'è una A in più e sì i nostri centrobos sono Bodegà e Icardi insomma sono come un po' centravanti del calcio che vivono per il gol per cui insomma se vanno a segno entrambi è sempre una bella notizia e poi non dimentichiamoci che in tribuna c'è Figlioli che sicuramente tornerà arrolabile contro la Grecia sì oggi probabilmente come dici te per questo gioco ah palo intanto facevo magari far giocare qualcuno che magari giocherà un pochino meno magari io penso che insomma il risultato ormai acquisito sicuramente farà giocare anche Nicosia il portiere del Telemar Palermo attenzione rischiamo di prendere il secondo gol eh sì ecco e lo prendiamo sì 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 addormentati qui eh eh sì gol di Ross Stone che è tra l'altro uno dei più giovani componenti del gruppo eh anzi proprio al debut internazionale studente di al secondo anno di Business Administration ma loro giocano praticamente quasi tutti in Sudafrica o c'è qualcuno sì 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 no giocano tutti giocano tutti in Sudafrica insomma sono tre grandi blocchi il Quazulu Natal Western Cape e Central Gauteng Aquatics quindi sono tre le squadre principali e intanto 10 a 2 è finito anche il secondo quarto quindi andiamo all'intervallo avanti di otto reti manca un un tempo o due tempi due tempi sono quattro tempi tra l'altro la formula quattro tempi venne introdotta proprio a partire dai giochi di Tokyo del 64 perché prima si giocava su due tempi come nel calcio ma la parola nuova del resto è uno sport che ha sempre come dire subito grandi modifiche no da un quadriennio all'altro addirittura te pensa che mi pare fosse a partire dal 2008 2012 che è cambiata la regola sui sui corner sui tiri d'angolo perché prima diciamo era considerato corner qualsiasi tiro deviato da un qualsiasi giocatore sia portiere che giocatore di movimento poi è cambiata la regola che ora diventa tiro d'angolo solo se viene deviato fuori dal portiere se è un giocatore di movimento non è come se tu avessi tirato il pallone fuori certo poi è cambiata ad esempio la regola sui sulle distanze così almeno ecco spiego anche un'altra regola della parola nuoto che ci sono dei birilli di colori diversi nella parola nuoto sì che ora sono due metri cinque metri e sei metri una volta invece erano due metri quattro metri e sette metri due metri birilli rossi quattro metri birillo giallo e verde invece per i sette metri praticamente c'è una una specie diciamo di corrispondente del fuorigioco nel senso che non si può stare all'interno della linea di due metri quindi fra i due metri e la linea di porta senza il pallone altrimenti si è un fuorigioco esatto e una volta invece dal birillo dei quattro metri si tiravano i rigori mentre invece ora è a cinque metri la distanza e da sei metri invece se te subisci fallo all'altezza dei sei metri o oltre te puoi tirare direttamente in porta Dario mi sei un attimo ah ok si eccomi 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 ok dicevo appunto che se te subisci fallo dalla linea dei sei metri in poi parlavamo di esatto puoi tirare direttamente in porta però deve essere un tiro immediato senza diciamo senza finta conviene che refresci perché mi sa che mi sono bloccato remove non si apisce rieccomi sim vai perfetto tranquillo e appunto stavo spiegando questa cosa delle distanze insomma che ora si battono i rigori dai cinque metri invece la linea dei sei metri se te subisci fallo da quella linea lì in poi puoi tirare direttamente in porta un'altra regola che è cambiata ad esempio ai portieri che una volta potevano toccare il pallone fino a metà campo ora invece possono spingersi oltre e possono anche battere i rigori ah figurati senti là nel frattempo prima che rinizi la nostra palla a nuoto l'Italia del volley femminile ha schiacciato la Russia 3 a 0 quindi parte fortissimo quel che rimane la Russia insomma la Russia lo sappiamo questa storia è incredibile ecco come ti dicevo prima c'è stato il cambio in porta quindi Nicosia al posto del lungo così insomma diciamo che se l'Italia dovesse andare a medaglio come ovviamente la vincerebbe anche se la prende anche Nicosia perché appunto è stato schierato sì 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 ma infatti ho letto un'intervista di qualche giorno fa di campagna sui giornali e aveva detto proprio questo certo sicuramente col discorso della riserva chiaro che quasi tutti i commissari tecnici ci manderanno in tribuna il secondo portiere e allora Nicosia lo schiero contro il Sudafrica almeno sono sicuro che prende anche lui la medaglia se dovessimo andare a torniamo lì tra l'altro sta per partire sta per partire scusami Simo poi ti lascio di nuovo la parola sta per partire anche le semifinali e le finali della prima giornata del nuoto ricordiamoci che abbiamo il nostro detti nella finale dei 400 stile libero che quest'anno è di un livello tecnico diciamo abbastanza scherzetto e anche mi ricordo chi c'è ma c'è anche la 400 mista quindi insomma maschile sempre vediamo qui si gira a gol difesa difesa di Bodega esatto rivedibile sì decisamente pare su assist di Vincenzo Dolce grande gol grande gol di prepotenza proprio di Bodega Bodega naturalizzato dove gioca gioca nel Barcelloneta ah nella Barcelloneta ma dai esatto però diciamo che insomma il blocco principale sono Recco e Brescia che sono poi le due squadre che si sono contese lo scudetto e anche poi comunque la Champions League perché il Brescia è stato eliminato in segni finale se non ricordo mai proprio dal Barcelloneta quindi sono comunque le due squadre più competitive che abbiamo in Italia a questo punto potrebbe finire veramente a tantissimo a poco sì 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 attenzione altra espulsione per l'Italia sì ricordiamo quanto dura l'espulsione Simo sono 20 secondi sì esatto tra l'altro vedi come sta succedendo in questo momento può succedere che un giocatore che viene espulso temporaneamente possa essere sostituito infatti c'è il suo sostituto che è lì nel pozzetto si chiama così quel riquadro dove si sta diciamo in castigo in attesa di rientrare in questo caso c'è stato un cambio quindi Vincenzo Dolce il giocatore espulso è stato sostituito e le sostituzioni ricordiamo che sono come nel intanto 12 a 2 gol esatto gol di Nicolas Presciutti dicevo che le sostituzioni sono lo avrete intuito come nel basket cioè che sono volanti e non sono definitive come nel calcio vedo che Dario si è sconnesso quindi rimango io momentaneamente alla conduzione di questa diretta eccomi eccomi vai ho sbagliato volevo riflessere un'altra cosa tranquillo dicevo portiere portiere sudafricano non è che si alzi tantissimo dall'acqua no esatto anzi devo dire che poi è anche abbastanza in solito vedere dei giocatori di colore nella nella pallanota negli sport acquatici in generale però ci sono state anche delle piacevoli eccezioni intanto 13 a 2 gol di di Gonzalo e Cinica che quindi fa doppietta ci sono state dicevo delle grandi eccezioni come del resto il portiere nazionale statunitense femminile Ashley Johnson che è formidabile mi ricordo veramente che volava sull'acqua a Rio personaggio a cui Time aveva dedicato una copertina che tra l'altro lei è una che si è fatta portavoce di Black Lives Matter quindi insomma anche molto attiva nel campo guarda là c'è Matte ciao Matte grande rientro dopo gli europei Matte non ti avevamo ritrovato sulle nostre live ciao Matte e poi hai scommesso scusami hai scommesso già qualcosa per sull'Olimpia di Matte tutto bene Matte sono le 3.40 siamo informi esatto e un altro grande giocatore di colore insomma che mi ricordo bene era Ivan Perez centroboa cubano poi naturalizzato spagnolo che vinse i mondiali del 2001 a Fukuoka tra l'altro era un centroboa mancino che era fortissimo e era appunto insomma di colore perché poi era originario di di Cuba ma poi mi viene in mente anche a Mauri Perez eh certo cubano naturalizzato italiano che ha vinto l'argento a Londra nel 2012 e poi l'anno prima era stato campione del mondo a Shanghai qui Italia che per il momento boh Salis la gode sì 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 fare un attacco quindi annullato il gol a Bodegano il gol annullato sì Matte te che ci dici raccontaci un po' dove eri andato eri andato un feri non eri più dei nostri gli dice che è successo mentre intanto seguiamo vediamo se c'è qualche altro risultato che succede vediamo al momento non sembra esserci ancora niente tra l'altro tra pochino partiranno veramente delle gare bellissime a Razzetti ecco Razzetti Razzetti vedi nei 400 mesi tra l'altro adesso ok mentre Detti è alle 3 e 52 quindi con la magari riusciamo anche a guardarcela eh sì potrebbe essere molto molto interessante alle 6 poi parte la prova in linea donna diceva io anche vincere l'olandese ma la Longoborghini potrebbe inserirsi dare fastidio in qualche modo insomma poi dalle 11 parte il Giuda anche lì via vai dal mare Matte si muore di caldo eh quest'estate è cadduccio sì attenzione ancora l'Italia davanti 14 eh sì sì ha fatto gol dell'8 è stato quello che aveva aperto le marcature oggi quindi doppietta per lui insomma siamo lanciatissimi sarebbe divertente sapere qual è il risultato più largo nella storia perché magari potremmo avvicinarci eh ti ripeto insomma abbiamo un ottimo Italia India 16 a 0 siamo a 14 eh sì mancando ancora un tempo e mezzo praticamente sì potrebbe anche succedere qualcosa di oltremodo storico sarebbe anche giusto nei nostri confronti visto che ci siamo alzati a quest'ora per fare la live insomma quindi i ragazzi ci effettivamente sì vediamo vediamo tra l'altro nei prossimi giorni dovremmo avere anche Giulia Pisani che è la commenta la voce tecnica della pallavolo femminile perché di Ponta Serchio ora io non lo sapevo ma sì pallavolista professionista che da quest'anno commenta appunto la nazionale quindi l'ho contattata vediamo se ci viene a raccontare un po' di Olimpiade visto come stiamo partendo visto che la nazionale femminile dei pallavolo è una delle grandi speranze di medaglia insomma abbiamo la la Egonu che è comunque oggi una delle grandi stelle mondiali ecco ecco l'altro goal 15 a 2 esatto 15 a 2 andasse neanche luongo quindi veramente oggi è festival del goal per quasi tutti gli azzurri insomma ma sarebbe divertente visto alla luce delle regole che ti dicevo prima se guadagnassimo rigore lo andassi a battere il portiere proprio segnano tutti insomma sono andate a controllare al volo la migliore vittoria Italia Belorussia 23 a 0 2006 però siate freschi freschi siete i miei eroi Isimoni si arriva a 20 anche secondo me Matte potrebbe fare una scommessa delle sue e puntare i 20 i 20 goals potrebbe succedere però diciamo che come risultato con con il maggior numero di reti spicca un Italia Ungheria 20 a 18 finale del terzo posto 96 ma perché fine supplementari ma fine supplementari tra l'altro c'è anche un episodio ganso quella partita mi ricordo che è bene commentata da Faile Campagna come commento tecnico l'Italia sta vincendo di un gol a pochi secondi dalla fine e sentì diciamo il fisco della sirena e pensavano che fosse finita me lo ricordo e si buttarono in acqua e si buttò in acqua il secondo portiere che era Marco Gerin solo che mancavano due decimi di secondo per cui era diciamo un errore tecnico perché è come se ti fai invasione quindi ti fiscano automaticamente rigore e mi ricordo Rudy che andò a protestare davanti al tavolo della giuria lo buttarono fuori pareggiò su rigore l'Ungheria e poi dopo vincemmo supplementari con grande sofferenza come ricordo un gol di Angelini in controfuga fece 5-6 finti prima di mettere sotto il portiere insomma fu una vittoria sofferta ma fu un bronzo meritato e tra l'altro quell'edizione lì venne vinta dalla Spagna che in qualche modo si rifece dell'argento di 4 anni prima a Barcellona insomma ripodiamo tutti la finale persa contro l'Italia davanti al proprio pubblico una finale che ha fatto storia insomma incredibile tra l'altro in quelle in quelle estate stavo in Francia vivo in Francia e quindi vedi tutte le Olimpiadi su Eurosport e perché all'epoca era gratuita e in Francia 16 a 2 e quella finale in particolare tra l'altro l'ha detto in spagnolo quindi la vidi con il commento dei commentatori spagnoli e quindi rimase 9 a Osho 9 a Osho finale mi ricordo questo 9 a Osho sì che poi ci fu anche una traversa finale a 4 secondi mi ricordo una traversa colpita da Miguel Oca che veramente insomma fece ricordiamoci il grande giocatore di quella nazionale spagnola Restiarte che oggi è nello staff di Pep Guardiola al City è sempre stato nello staff di Pep Guardiola tant'è che ho anche letto un estratto di Air Pep in cui c'era una partita che era finita di gol e disse al giocatore di ascoltare Estiarte che dice lui è uno che di partiti di questo genere e ne ha giocato tante beh abbastanza vero questi ci siamo un po' secondo me un po' rilassati non volevamo battere il record e ci siamo un po' rilassati comunque c'è sta finendo il terzo tempo ma ci sono ancora otto minuti per per siglare altri 4 o 5 goals sì no come ti dicevo al momento risultato con migliore scarto dell'Italia è giochi olimpici effettivamente ecco il 17 esatto con dolce tranquilli Matteo lo so perché hai scommesso al volo appena l'abbiamo detto Matteo comunque sì confermo che a livello di risultati Italia India 16 a 0 del 1952 Helsinki è al momento il risultato con il maggior numero di scarto all'olimpiade sì per l'Italia quindi dovessimo già fare il diciottesimo saremmo avremmo pareggiato lo scarto sì esatto però non subire gol attenzione ci provano con un palonetto da lontano poverini certo loro vabbè però allo sport allo sport povero Sudafone eh sì del resto insomma la palla nuota è uno sport dove è difficile che poi attenzione nel frattempo Razzetti ultimo ma non l'abbiamo guardato con tutto rispetto per Razzetti ma insomma ultimo nella finale di 400 misti mentre Fioravanti nel surf io avevo iniziato a guardare Fioravanti nel surf è andata a riprescaggi quindi insomma già dal rischio eliminazione in cui era non è male surf c'erano delle onde non tanto alte l'ho visto un pochino non proprio il massimo campagna che ha chi ha come c'è qualche ex giocatore importante fra lo staff sì c'è Amedeo Pumiglio che tra l'altro era uno dei componenti della vittoriosa spedizione olimpica a Barcellona del 92 e prima ancora c'era anche a Tolico ah ok 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 e Rudic che fine a parte quindi hanno fatto un po' come un po' come Mancini esatto e Rudic si è ritirato aveva chiuso la sua carriera di allenatore alla Prorecco dopo che nel 2016 era stato il commissario tecnico del Brasile in vista ovviamente dei giochi di Rio e ora si gode diciamo la pensione ma insomma Rudic uno dei grandissimi no? insomma ha vinto come allenatore ha vinto se non vado errato 4 ori olimpici 2 con la Jugoslavia nel 84 88 1 in 92 con l'Italia e poi quello del 2012 con la sua mostruosa direi e tra l'altro la cosa particolare è che lui nel 68 era la riserva della nazionale Jugoslavia che vinse il suo primo oro olimpico però essendo riserva non gli era toccata la medaglia quindi ah vedi vuol dire che poi da allenatore si è rifatto ampiamente 4 ori olimpici si mi ricordo che parlando con Gianni De Magistris lui ha sempre detto sì per carità a Rudic non si discute però due ori comunque sono stati si riferiva a quello del 84 e del 92 avvantaggiati un po' dalla situazione geopolitica perché nell'84 non c'erano ad esempio i sovietici e gli ungheresi a Los Angeles per il boicottaggio mentre invece nel 92 non c'era Jugoslavia e sì c'era la squadra unificata della Russia ma insomma erano comunque le vestigia dell'Unione Sovietica per cui certo come dire che comunque ha avuto magari anche fortuna però insomma comunque sia la Rudic non ci discute eh Rudic non ci discute assolutamente cioè un grandissimo sono un grandissimo maestro di palla al nuoto non possiamo mettere in dubbio anche Rudic perché sennò veramente Sandrone Campania in ottima forma formistratore riparte l'Australia l'Australia il Sudafrica l'Australia e poi nella mattinata italiana ci sono c'è poi ritorna il torneo calcistico maschile e ci sono un paio di match decisamente interessanti che stabiliranno un po' diciamo questo è il turno è il secondo turno quindi il turno che deciderà un po' le sorti di alcuni gironi e vedremo un po' che succede insomma c'è Francia Sudafrica Giappone Messico ricordo la Francia ha perso il primo turno con il Messico quindi però Sudafrica non dovrebbe essere un problema nel girone B che è il girone più facile diciamo dove non c'è una favorita la Nuova Zelanda se dovesse far bene con l'Honduras potrebbe rischiare di passare il turno e poi c'è Australia Spagna questa grande partita vediamo cosa succederà insomma Spagna strafavorita con Pedri o Erzabal però ha pareggiato il primo turno insomma e frattempo ieri mi sono guardato Cina Zambia insomma del femminile bellissimo 4 a 4 una grandissima partita 4 a 4 è finita 4 a 2 invece la Svezia batte appunto l'Australia 6 a 1 gli Stati Uniti battono la Nuova Zelanda sotto no femminile regala risultati larghi c'è sempre un problema con grande rispetto che ho per il calcio femminile però ma questo lo dicono anche le giocatrici con cui mi è capitato di parlare i portieri ancora soffrono avendo di un gap tecnico elevatissimo rispetto al maschile e spesso si vede abbiamo visto alcuni gol anche ieri dipendono proprio da errori tecnici delle portiere in questione insomma si spera piano piano che migliorino ecco col passare del tempo magari e col fatto insomma che ora anche il calcio diventerà una professione magari molte atlete che magari sono lanciate su altre discipline e sceglieranno il calcio insomma certo stavo facendo un po' di conti se non vado errato questo è il trentatresimo paese che affrontiamo agli olimpidi non male non male eh sì tra l'altro naturalmente nel corso del tempo saranno aumentate le squadre partecipanti anche nella palla nuoto va detto che ci sono anche delle nazioni che una volta erano protagoniste nella palla nuoto e oggi non lo sono più insomma mi vengono in mente la Svezia Gran Bretagna Svezia Gran Bretagna il Belgio la Francia che erano grandi protagonisti nei primi anni del Novecento e poi via via sono sparite dal radar la curiosità è che ad esempio abbiamo giocato contro l'India contro l'Austria contro Singapore è successo addirittura ai giochi del 56 insomma c'è ma Singapore è incredibile sì poi abbiamo giocato anche contro la Repubblica Araba Unita che era una specie di di selezione c'era Egitto Siria la affrontammo ai giochi del in pari del 60 a Roma sì ma è incredibile questa cosa sì vabbè Messico Bulgaria Iran Cuba abbiamo veramente giocato contro tutto il mondo non male non male questa cosa voglio vedere se recuperavo le finali perché Detti è tra pochissimo e 400 stile magari ci riguardiamo sì volentieri tanto potrebbe essere molto interessante questa cosa di discover di plus è incredibile è meravigliosa che bellezza veramente bellissimo 18 eccolo 18 18 18 è quindi abbiamo eguagliato con la doppietta di Bongo il record però se vai a vedere diciamo magari a parità di reti contano di più i gol fatti quindi questo è certamente a questo punto vogliamo il diciannovesimo almeno è il record nostro insomma ma lo faranno come dicevamo in chat lo faranno penso lo facciano non so beh come ti dicevo questo sarebbe un segnale che comunque la squadra non prende sotto gamba nessuno neanche l'avversario insomma materasso del girone questo è anche un segnale per gli avversari insomma che il livello non abbassa mai la guardia penso che si possa ritenere ampiamente soddisfatto campagna proprio per la serietà che hanno messo i giocatori in acqua insomma tra l'altro sta proprio entrando Gabriele Detti perché c'è la starting list e tra pochissimo partirà la gara insomma sì la pallannosa è un po' uno di quegli sport dove se sei favorito favorito vinci non è come è difficile che vengano fuori risultati imprevedibili no esatto proprio per come è concepito il gioco e anche per il fatto che si gioca in acqua eh certo per esempio in un campo di calcio se è allentato la squadra meno tecnica magari ha più probabilità di vincere però chiaro è stato fischiato un fallo in attacco al Sudafrica quindi 18-2 siamo 19 mi ricordo eccolo vai 19 19 ecco record record ragazzi Manu Football che non so se è italiano che lascia un follow a quest'ora un altro eroe della notte eh italiana o non so da dove tu venga Manu insomma piacere che tu sia qui con noi eh eccoci eccoci se sta per partire quella finale dei 400 stile all'Olimpiadi eh ci sono ricordiamo in prima corsia Michel in seconda McLaughlin detti non c'è un favorito chiaro eh in questa finale e quindi detti ricordiamo che Gabriele entra con il terzo tempo assoluto eh dalla semifinale non è nelle forme degli anni migliori insomma come quello nel 2019 però 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 insomma ricordiamo detti Livornese eh sempre gareggiato insieme a Paltrinari fin da ragazzo però fa anche le distanze un po' più brevi come i 400 ecco sono partiti vediamo cosa succede la grande caratteristica di detti era il ritorno celestiale nell'ultima vasca ma vediamo vediamo che succede insomma terza corsia eh vedetti ve lo ricordo quindi è il terzo a partire dall'alto se state guardando con noi la finale tra l'altro qualcuno mi ha scritto dicendo che la cerimonia l'hanno guardata con noi levando l'audio della Rai quindi oh bene si si qualche spettatore mi ha scritto eh si sono entusiasmati soprattutto per l'abbigliamento si non so ammette che abbiamo ampiamente criticato apprezzato a seconda dei cadere e anche l'olio 20 a 2 super record 20 a 2 ha segnato si 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 ha segnato ancora di fulvio quindi bene bene che i nostri ragazzi siano così ciò piace no non stiamo facendo la maratona diante maratona su ticce semplicemente le gare dell'olimpiade la maggioranza o molte sono a quest'ora notturna quindi stiamo seguendo le olimpiadi la maratona se volevi parlare della maratona ci sarà l'ultimo giorno dell'olimpiade quindi eh si detti non benissimo ultimo per ora non bene peccato perché la sto seguendo anch'io mi sono è una gara è una gara in cui lui in forma poteva veramente prendersi l'oro peccato comunque vediamo ancora non è detta siamo più o meno a metà gara vediamo che succede insomma se vuole provare a prendere la medaglia le parti ora se no è complicato l'australiano è benissimo che sto seguendo a sinistra il settebello e a destra i quattrocenti ringraziamo di scuola è bello esatto è bello dell'olimpiadi ciao Manu vedete l'Italia Germania di basket non lo so non lo so vediamo Manu ok molto attento a Nicosia insomma devo dire che è stato all'altezza del compito a che ora abbiamo iniziato no alle tre abbiamo iniziato piace sì ma che sette otto ore le farete piace no assolutamente no no si fa un altro pochino poi si stacca e ci si rivede alle due se no si muore dove hai detto che in quale corsia è tre non è messo bene non è messo bene vediamo ora sono tutti lì effettivamente rispetto all'inizio aveva molto più di stacco però sta piano piano provando a risalire però lo vedo abbastanza l'australiano tra l'altro vola sì l'australiano veramente sta andando sta volando McLaughlin sta volando davvero è a solo 19 secondi sopra 19 centesimi sopra il record del mondo tra l'altro e anche il tunisino in ottava va se è è ora deve strappare adesso l'ultima vasca e poi provare ma non mi sembra in forma peccato ragazzi a volte devi esserci al momento giusto e si perde l'occasione di prendersi una medaglia d'oro incredibile se la sarebbe meritata per il talento enorme ma vediamo vediamo ho tutto nulla ora Gabriele vediamo cosa succede ventunesimo gol del settebello ormai il settebello incredibile si ancora di fuvio che se non sbaglio è il quinto gol in questa partita vuole proprio vincere niente via detti arriverà quinto o sesto niente da fare vince il tunisino a Fnaoui davanti a Smith incredibile veramente questa quindi è crollato l'australiano insomma davvero incredibile scrolla l'australia alla fine e il tunisino che ha un solo amico in dentro una che sarà l'allenatore questo è veramente un outsider un nome che non ci sta niente però è andata così era l'anno che detti avrebbe potuto vincere qualcosa di importante e purtroppo non è andata peccato torniamo a vederci gli ultimi minuti della nostra pallannuoto si manca quasi un minuto alla fine quindi insomma ormai ci siamo quasi ci siamo quasi è andata quindi possiamo dirlo è una partita storica perché la vittoria con il maggior distacco sia un esordio olimpico che in assoluto siamo contenti tra l'altro scriveremo ai ragazzi li ringrazieremo visto che abbiamo fatto un'ottata per loro insomma quindi gli diremo grazie ragazzi per averci regalato questo successo eh sì questo record incredibile allora li metto subito non ho sbagliato no ora non lo so sta piace sta notte no però nelle prossime notti magari quando c'è qualche gara succulenta un po' più succulenta potremmo fare anche una maratona un po' più lunga magari iniziando più che alle 3 magari alle 5 e mezzo le 6 e poi magari ci facciamo le finali durante la mattinata sì ora diciamo che questa volta c'è stata la circostanza della partita del del 7 bello eh sì a questi orari improbabili però magari quando c'è il trap potremmo decidere di guardare trap e qualche altra disciplina partire verso le 6 e mezzo le 6 e poi ci facciamo una tirata però ecco insomma la 7 bello finisce direi anche che torniamo tranquillamente a letto nel lettone eh sì nel brentone il brentone prossima partita ricordiamola Simo perché è arrivato adesso sì allora aspetta che ho tutti i miei fogli foglietti qua tanto è finita 21 a 2 quindi grandissime record 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 sì eh torniamo in acqua martedì 27 alle 8 e mezzo di mattina orario italiano contro la Grecia che ora alle 4 e mezzo sfida l'Ungheria in quello che è diciamo il big match eh del gruppo A nella prima giornata bene ragazzi quindi è stato bello grazie Simo grazie a te ovviamente come sempre a questo punto insomma noi eh ci troveremo un orario un po' più consono martedì mattina alle 8 e mezzo per commentare 8 e mezzo perfetto eh sì 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 una bella colazione tranquilla la segna stampa e poi alle 8 e mezzo si va in diretta perfetto ricordiamo i risultati per adesso di stanotte oltre appunto al 21 a 2 dell'Italia sul Sudafrica nella prima giornata del torneo di pallanuoto maschile anche l'Italia del vuole femminile che batte 3 a 0 i rimasuli della Russia detti che purtroppo non riesce a vincere e Guazzetti che arriva ultimo nei 400 misti detti nei 400 liberi ma abbiamo eh un po' di ragazze del Fioretto che sono arrivate agli ottavi quindi dalle 7 ci sono le altre gare e ci abbiamo anche nello skit eh i nostre le nostre speranze anche quelle ci sarà più o meno all'inizio della mattinata continueranno a gareggiare quindi ragazzi ci vediamo ci sentiamo seguiteci su tutti i social che seguiamo comunque le fasi alle 2 Simo quindi se poi alle 2 vuoi ripassare insomma con Ivan facciamo il punto della situazione sulla pallanuoto sì e alle 2 siamo con Ivan che raccontiamo un po' quello che è successo sperando sperando di riavere qualche finale da raccontare come ieri assolutamente assolutamente no stavo solo guardando un po' di statistiche di questa partita poi dopo chiudiamo mi sarà particolarmente contento Campania perché il il Settebello non ha subito gol su inferiorità numerica che questo è un dato che nella pallanuoto si guarda sempre no perché spesso quando c'è un risultato in bilico la superiorità numerica può rivelarsi decisiva no come come fattore da una parte o dall'altra per carità era una partita che non faceva testo abbiamo subito solamente un gol su azione quello che si sta rivedendo ora nelle immagini è uno in controfuga per cui insomma direi che può ritenersi ovviamente soddisfatto direi che in difesa non ci sono state le grosse distrazioni non abbiamo concesso niente in inferità numerica abbiamo cercato di sfruttare tutte le occasioni che abbiamo costruito insomma 21 a 2 è un divario che facevo io ai tempi di allievi contro la Florenzia di Giovanili quindi insomma direi che ci può stare insomma quindi grandissimo debutto del settebello martedì sarà sicuramente un'altra gara con la Grecia però insomma cominciare così in maniera convincente senza aver preso sotto gamba l'avversario non è male è il modo migliore poi con il nuovo record no di la storia più larga nella storia di Olimpiadi per la nuota italiana bene così bene così bene così andiamo road to the medal ciao Simo a presto ciao a tutti buonanotte buonanotte a tutti ciao